Dunque due materie fondamentali sono state studiate, la psicologia e la spiritualità. Quindi immaginiamo, adesso faccio un disegnetto, devo aprire. Ecco, immaginate che questo corrisponda a una biblioteca ampia, mille volumi, è lo stesso. Se volete, in termini di schemi, per farci stare dentro queste cose, ci vogliono, tirando l'essenza, ci vogliono 20 metri quadri. Di schemi, negli anni altro che 20 metri quadri ho fatto, ma molto di più. Avevo lavagne, avevo decine e decine di questi fogli, c'è un centinaio di quelli che ho conservato, qui sono tantissime. Però che te ne fai di mille libri? Che te ne fai di 20 metri di fogli? Quindi bisognava andare sempre più all'essenziale. Per andare all'essenziale bisogna togliere tutto ciò che è inutilmente complicato. Bisogna togliere la complicazione. E la psicologia l'abbiamo fatto. Oggi la psicologia che trattiamo qua, cioè la psicologia in fondo è il lavoro sull'anima. E quello che serve, la psicologia si studia. Fondamentalmente per aiutare le persone. Se qualcuno la studia fa. Ma il fatto che oggi non si studia per aiutare le persone, si studia per fare il gioco della psicologia. Che è un gioco. Si potrebbe fare il gioco dei scacchi. È un gioco mentale, tra i tanti. La cui utilità è praticamente zero. Però sono stati scritti migliaia e migliaia. Enormi biblioteche. L'essenza di quello che c'era da capire, francamente l'abbiamo capito. Non abbiamo capito ancora tutto, ma rispetto a quello che fanno gli altri. Non c'è nessuno che riesca a fare questi lavori. Perché tutta questa enorme quantità si è ridotta a tre, quattro foglietti. Ci sta tutto. La restituzione. Lo psicogenoma. Che ci vuole? Pochissime cose. Le cose che facciamo adesso, visualizzare il bambino, vedere l'io, lo sviluppo dell'io, dal bambino fino all'adulto, lo sa chiunque, la psicologia studia, la psicologia dell'età evolutiva. Che ne traggono fuori? Niente. Fanno degli studi, fanno degli esperimenti. Che caso le tirano fuori, non lo so. Io avendola studiata, francamente, di quello che ho studiato, non so che cosa è veramente stato utile. Pochissimo. E comunque è quel qualcosa che si può imparare pochi giorni. Non certo di più. Quindi diciamo che, mentre le università dedicano un tempo enorme, oggi per diventare psicoterapeutici vogliono cinque anni di psicologia, più quattro di specializzazione. Poi, siccome non ce la fai quasi mai, dieci anni ci vanno. Dopodiché esci che non sai niente. Se tu devi aiutare qualcuno, devi chiedere aiuto tu. Non lo sai. Se è una cosa... Cioè, le hanno fatte talmente complicate, queste cose, che anche i poveri studenti, non ci capiscono più niente dopo un po'. Poi studiano statistica. Ma è l'esame più difficile, in psicologia. Psicomatria. Cioè, io ho studiato e tutto, ho fatto 36 esami, le so queste cose, le ho conosciute, poi le ho dimenticate tutte. Non mi servono a niente. Vabbè, nella spiritualità le cose stanno ancora peggio. Perché ci sono, penso, edifici ed edifici interi di ragionamenti sulla spiritualità. sul cristianesimo, penso che non basta tutto armeno, tutte le case, le riempie di libri, eh. Le dottrine, le eresie, la... l'ortodossia. Cosa è giusto, cosa è sbagliato, cos'è... E dopo di tutto questo, cosa arriva? Ecco, il messaggio del cristianesimo, il messaggio originale era quello di Cristo, giusto? Allora, da quel messaggio lì mi sono nati una quantità di volume incredibile. E i risultati quali sono? Che nessuno fa niente in quel campo. Perché, adesso vi dico quali sono l'essenza del cristianesimo. Perché lì non sono nemmeno tutti i Vangeli, tutti i Vangeli e uno dice porca miseria, no, non c'è bisogno che li leggi tutti. Se è meglio li leggi, ma... Ma guarda, fondamentalmente vi dico quali sono i principi e qui vi indico un simbolo che è questo. Sapete cosa significa questo simbolo? Pensiero germinale. Pensiero germinale, per esempio, nell'analisi transazionale è un'idea semplicissima. Genitore, adulto, bambino. questo. E questa idea originale di Bern l'ha tratta osservando i pazienti. Era un psicanalista, vedeva che alcune volte le persone sembrano dei bambini quando parlano, altre volte sembrano degli adulti ed altre volte dei genitori. e ha trovato tre stati dell'io. Poi è iniziato la complicazione. Ormai studiare l'analisi transazionale è come studiare ingegneria. Perché qua, posto dei genitori, qui c'è diventato genitore critico, genitore normativo, il genitore di qua, il genitore di là, il genitore normativo che è dentro al bambino libero però e l'altro che è una roba che alla fine ma che serve? Inizialmente era potente avere un'idea buona. Poi studi psicoanalisi. La psicoanalisi eccola qua. L'io prigioniero tra un conflitto l'inconscio sociale e l'inconscio pulsionale. Povero il disgraziato questo io. O finisce sotto l'egita di questo o sotto questo è un continuo conflitto. Ora era un modello povero l'analisi transazionale ti diceva almeno sta a sentire lascia perdere cos'è com'è che si esprime la persona da bambino? Bene in questo momento è un bambino. Quindi l'analisi transazionale ha scoperto che i bambini parlano in un certo modo dicono certe cose rivelano determinate cose banali che voi tutti sapete che i bambini prendono dalle decisioni non mi fido di nessuno devo controllare tutto devo far tutto io non credo più niente cinque sei di queste convinzioni sulle quali si crea tutta la vita successiva quindi convinzioni decisioni di copione allora quello è utile perché ma oggi nel lavoro che facciamo lo puoi avere come sfondo non è che ti ci devi passare la vita a studiarle ci metti in cinque minuti a pararle certo che se io per tutta la vita ho studiato il copione di vita e sono intellettuale sono psicologico è chiaro che lo devo vendere bene lo devo far credere indispensabile tutte le sottotipi di copioni quello il copione amartico il copione tragico cioè alla fine ho tante di quelle nozioni poi per i studenti voi dovete saperle tutte se non faccio un mazzo così e quindi le imparate per forza ma non è così indispensabile allora debba vedere nel cristianesimo quali sono i semi da cui è nato tutto ve li ho già detti in parte amatevi l'un l'altro come io vi ho amato non entrerete nei cieli se non diventate come bambini qual è il comandamento più importante alma al prossimo tu come te stesso quante volte dobbiamo perdonare 70 volte 7 con questi praticamente c'è tutto quello che serve perché sono come gli atomi della tavola di Mendeleev combinando insieme si hanno tante di quelle possibilità e soprattutto ognuno di loro non è un atomo è una molecola dice un sacco di cose quindi potremmo ottenere tutta una giornata su amatevi l'un l'altro come io vi ho amato a parte veloce dette queste cose cosa vuol dire vuol dire amare in modo che esprimiamo tutte le qualità dell'essere e questo non è solo una nozione è un'indicazione è un'istruzione quindi vuoi entrare nel regno dei cieli cioè vuoi essere felice o vuoi non essere felice e tutti quanti alzano la mano voglio essere felice bene se vuoi essere felice qui c'è la procedura applica tutte le qualità dell'essere tutte e nessun inquinante della mente più facile di così poi una volta capito ti accorgi che gli inquinanti della mente agli inquinanti della mente ci sei parecchia affezionata perché c'è l'attaccamento a questi inquinanti e lì si apre tutto un capitolo meraviglioso ma quello che vi ho detto è già una sintesi tra cristianesimo e buddismo perché vi ho parlato di attaccamento nel cristianesimo non c'è l'attaccamento non viene detto così chiaro quindi nel buddismo un punto di forza sono le quattro nobili verità quando parli quella è la causa della sofferenza e l'ignoranza e l'ignoranza cos'è? vuol dire attaccamento e avversione attaccamento e avversione sono attaccata a quella bottiglia se non ce la posso avere c'è l'avversione è l'origine della sofferenza allora abbiamo quindi una validazione crociata tra quello che ci dice il cristianesimo ma quando parlo di inquinanti e qualità ho già invaso il cristianesimo col buddismo li ho già ibridati perché il cristianesimo non parla degli inquinanti né delle qualità vi dice solo amatevi noi abbiamo riempito amatevi con una descrizione più dettagliata e facilmente operativa questo lavoro si fa perché per esempio io lo posso fare perché obbedito al comandamento 2 non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini quali sono le caratteristiche dei bambini? l'innocenza gioco queste cose va bene bisogna avere quelle caratteristiche lì se no non si mette a studiare così ecco si vergogna e la seconda curiosità spontaneità non ha proprio la loro caratteristica che ci serve nello studio qual è? la semplicità c'è un bambino non gli puoi spiegare cose difficili la differenza tra quella bottiglia e quella cosa la puoi spiegare la differenza tra le componenti chimiche di quel materiale lì e quell'altro non gli riesci a spiegare e perché cosa ne parli a fare? e lì esce fuori un'altra intrusione del buddismo nel cristianesimo che si evidenzia bene con questo simbolo eccolo qua chi lo conosce? foglie nelle mani la foresta e i discepoli cosa dissero? per un attimo pensarono che fosse scemo capisci? un attimo c'è lì è partito il cervello poi dopo si sono ripresi e poi hanno detto nella foresta ci sono tante mani e nelle mani ce n'è poche e lui cosa disse? queste sono le conoscenze essenziali le altre? essenziali per cosa? nel buddismo per superare la sofferenza sofferenza fine della sofferenza nella vita è sofferenza c'è una causa della sofferenza c'è un modo per superarla c'è una procedura sì queste cose impridate col cristianesimo rendono il buddismo è il cristianesimo più forti perché sono l'essenza dell'uno l'essenza dell'altro cioè se noi per fare questo bisogna davvero giocare con le conoscenze non essere c'è il problema degli intellettuali è fondamentalmente di enorme ignoranza perché purtroppo hanno questo vizio si attaccano alle conoscenze ne fanno uno strumento di potere sugli altri quindi se uno ha studiato 15 anni di buddismo questa roba qui dice ma no ma non è così è l'ottuplici sentiero per me semplicissimo devi ricordarti otto lettere a attenzione c concentrazione rv retta visione sono tre poi retto pensiero retta parola retta azione poi ce n'è due retto sforzo retti mezzi di sostentamento adesso vai e cerca la biblioteca e li trovi da qui a Torino i libri ma non ti cazzo ti servono alla fine di tutto quello studio sai cosa fai? non li applichi continua a non applicarle tu studi tutto sulle banane sai tutto ma le mani la scimmia non le studia se le mani che è più intelligente evidente che è più intelligente la scimmia noi siamo ricoglioniti cioè noi non è lì il problema dell'attaccamento all'immagine perché se hai l'attaccamento all'immagine tua che sei un essere che sei intelligente eccetera è finito lascia perdere parti dall'idea che non sei affatto intelligente che sei un coglione così che devi partire e questo qual è delle qualità dell'essere uno che non si fa umiltà se non c'è l'umiltà non fai niente nel buddismo c'è questo altro simbolo ecco qua è un uccello a due ali un'ala cosa sono? riconoscenze e l'altra? esperienza più riconoscenze le istruzioni istruzioni esperienza che vuol dire? che non basta fare esperienza perché uno dice ah no no uno dei luoghi comuni più comune è che no non servono fare esperienza ora l'esperienza senza istruzioni cioè che ti guidano a fare l'esperienza si ripete sempre uguale cosa serve? cioè tu c'hai un copione fai esperienza di vita poi sai alla fine cosa fai? muori solo col copione molto più grandito se invece fai c'hai il copione di vita poi ti vengono date alcune istruzioni dopo fai un'altra esperienza ti va meglio prendi altre istruzioni fai un'altra esperienza ti va meglio poi alla fine il problema del copione quel pezzo lì l'hai messo a posto ecco questo è il modo di ragionare mio che deriva dall'infanzia perché io nell'infanzia giocavo col meccano facevo facevo cose con i legni facevo cose così per cui io non sono interessato a capire le cose in sé sono interessato a trovare soluzioni alle cose quindi se fai il meccano non è che sei interessato a vedere come è fatta una vita ma come cosa ti serve cosa è utile e quindi mi mette completamente fuori dal circolo degli intellettuali normali quindi io lavoro in modo semplice tolgo tutto quello che non serve e però metto insieme vado a cercare nelle varie discipline quello che è pensiero germinale quello che è il meglio poi via via monto insieme un pacchetto un modello che è frutto di tutte queste esperienze nel nocciolo ora siamo arrivati a amatevi il comandamento qual è il comandamento più importante è stato chiesto a Gesù per metterlo in difficoltà e lui ha detto amatevi ama il prossimo tuo come te stesso e lì cosa ci dice questo comandamento perché noi lo applichiamo in continuazione la prima cosa è che deve essere amare il prossimo e se stessi ama il prossimo tuo come te stesso ma non è che il prossimo è una roba il prossimo tuo più prossimo qual è? sei te quindi come te stesso quindi devi amare devi amare perché Gesù ha detto questo perché per amarsi non basta volerlo io adesso mi voglio amare adesso io mi amo per esempio io voglio prendere questa fare e buttarla lì ci sono riuscito adesso io voglio amare te ti amo ci riesco? quindi questo comandamento in un testo che mi è stato regalato da un mio amico cattolicissimo che anche questi amici a volte servono c'è scritto ho letto solo due pagine la prima pagina dice che questo comandamento significa che tu devi cambiare il tuo carattere per cui Gesù ci ha detto semplicemente il comandamento è il più importante che cambia il tuo carattere perché con carattere non c'è scritto direttamente sono dei puntini che hai non puoi amare nessuno né te né altri e cambiare il carattere non lo possiamo portare in comparazione con l'articolo 3 pieno sviluppo della persona umana quindi il Vangelo l'articolo 3 il buddismo dicono tutti la stessa cosa ma la dicono in modi diversi complementari ognuno ha una parte di pensiero germinale che è semplice comprensibile immediatamente applicabile messi insieme diventano una molecola molto più ricca più facile alla portata di tutti e tutti i modelli che abbiamo analizzato li abbiamo passati attraverso questo filtro per esempio Rosenberg comunicazione non violenta passati attraverso questo filtro qua dopo ne è uscita una cosa più semplice e più efficace il racket era una roba ci abbiamo messo cinque giorni a impararlo ed era solo sulle lamentele questo è passato attraverso questo filtro e sono diventate le tre sorelle e poi si è visto che sono gli inquinanti della mente per cui tutto questo quindi ogni cosa la PNL come l'hai riscritta il metamodello 2 il metamodello 2 la bilancia strutturale la bilancia strutturale sono tutti modelli semplicissimi amare non è specificato è un verbo non specificato in PNL bisogna riempirlo specificamente che vuol dire tutte le qualità dell'essere praticare quello se pratichi tutte le qualità dell'essere hai definito l'amore come radiante per cui è qualcosa che irradia come il sole e da tutte le parti il primo a essere radiato sei tu se il tuo centro del cuore irradia amore luce dorata chi è che ne prende di più in particolare quali parti qua no qua cioè sono i bambini più piccoli qua quelli che di parole non ne capiscono manco una però capiscono la qualità del suono della musica delle vibrazioni ma quando la vedi da bambino queste cose vedi quanto gli adulti hanno preso una strada sbagliata per questo intelligentissimi potenzialmente molto intelligenti ma usano male l'intelligenza Gesù ci ha insegnato il Buddha e Gesù ci hanno insegnato come utilizzare l'intelligenza quando il Buddha ha insegnato questo ci ha detto fondamentalmente cos'è il pensiero intelligente che cos'è il pensiero la logica intelligente quando che cosa sono le foglie nelle mani del Buddha quelle conoscenze quelle istruzioni che ti consentono di ridurre e poi porre fine all'infelicità ma che cosa come fa mi chiedo ma tutte quelle persone che studiano e che questo problema non se lo pongono mai quindi nella fisica non te lo poni quindi a un certo punto ti metti a studiare l'atomo a un certo punto ti trovi di fronte alla possibilità nucleare e non ti pone il problema di che cosa ci si può fare e la cosa che si può fare è la bomba atomica siccome non basta quella potenza lì ne fai una che è mille volte più potente ora quel pensiero intelligente è intelligente noi siamo stati senza guerra nucleare per una semplice ragione che l'America e la Russia erano circa pari perché sin dall'inizio quando hanno avuto la bomba atomica gli americani hanno cercato di produrne il più possibile dovevano arrivare a 200 per poter distruggere la Russia Stalin sapendo questo si è messo a fare una ricerca bestiale nel 51 ha trovato anche lui la bomba atomica a questi punti le cose sono equiparate ecco su questo tipo di pensiero diverso da quello del Buddha si fonda il pensiero di oggi cioè è un pensiero che manca di intelligenza la radice il pensiero germinale questo qui è un pensiero che ha la sua radice dell'intuizione divine cioè ti arriva come ascolto adesso devo parlarvi di cosa succede da noi perché non è che facciamo solo giochetti da bambini com'è che a un certo punto si passa da questo livello a un livello più complesso allora se noi pensiamo di essere una materia pensante cioè che sono cellule che si brogliano tra loro alla fine tirano fuori le scariche elettriche poi alla fine non si sa come può venire fuori il pensiero oppure accedi a coloro che il pensiero non ha studiato da 5.000 anni e allora sai che il pensiero è una cosa ben diversa che per esempio Aurobindo lo spiega bene pensieri vengono da fuori e quindi se sei allenato a un certo punto ti accorgi e ti accorgi quando arriva il pensiero e ti accorgi se è un pensiero utile o no poi via via crea un automatismo per cui pensieri dannosi ci metti un sistema immunitario psichico li ferma prima non gli fa passare la dogana basta te stai fuori e lascia aperto transito ai pensieri evolutivi quindi è come mettere l'antenna fino a cercare quella stazione emittente che manda i pensieri divini ma perché la soluzione per lo studio è questa 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 è la soluzione ai problemi abbiamo creato un'economia che non ha niente di questo tutta sbagliata una politica tutta sbagliata siamo qui per cambiarla partendo partendo da dove ci bisogna ripartire va bene credo di avervi detto a sufficienza su questo grazie a tutti grazie a tutti